Numero 5. Il cacciavite elettrico di Bosch è l'accessorio perfetto per chiunque abbia bisogno di un attrezzo versatile e affidabile per lavori domestici e professionali. Grazie alla regolazione continua del numero di giri, è possibile avvitare con precisione e senza danneggiare i materiali più delicati. Inoltre, la presenza di adattatori testa ad angolo e eccentrica permette di raggiungere anche gli spazi più stretti e difficili. La comoda custodia morbida rende facile il trasporto e l'organizzazione degli accessori. In definitiva, un prodotto di qualità che non può mancare nella cassetta degli attrezzi di qualsiasi bravo fai da te. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 4. Questo cacciavite elettrico da 4 Volt con trasmissione a tre livelli di coppia è un alleato perfetto per tutti i lavori di serraggio e perforazione. Leggero e compatto, è dotato di una potenza da 10 nanometri a 4, che lo rende ideale per le esigenze quotidiane. Grazie alla comoda luce LED integrata, è possibile lavorare in maniera precisa anche al buio. La sua versatilità lo rende adatto a qualsiasi lavoro, supportando la rotazione in avanti o indietro. Facile da caricare e resistente, è anche dotato di un esclusivo albero esagonale flessibile per lavorare in spazi ristretti. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 3. Questo cacciavite elettrico con coppia massima di 6 nanometri è uno strumento essenziale per ogni appassionato di bricolage o professionista. Con 9 coppie regolabili, offre un controllo completo su ogni lavoro, garantendo una lavorazione precisa senza rischio di danneggiamenti o serraggi eccessivi. Grazie alla batteria da 2000 mAh, è possibile avvitare fino a 300 viti dopo ogni ricarica completa. Il comodo cavo USB rende ancora più semplice e veloce il processo di ricarica. Con questo cacciavite, otterrai risultati impeccabili in ogni progetto, senza fatica e con la massima efficienza. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 2. Questo cacciavite elettrico è la soluzione perfetta per chi cerca uno strumento potente ed efficiente per tutti i lavori di montaggio e smontaggio. Grazie alla sua coppia massima da 6,0 nanometri, è in grado di svolgere ogni operazione senza sforzo, garantendo un risultato preciso e duraturo. Il mandrino magnetico da 6,35 millimetri è estremamente pratico e facile da usare, in quanto permette di installare e sostituire gli accessori bit in modo rapido e intuitivo. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei tipi di bit, rendendolo un prodotto versatile e adatto a molteplici utilizzi. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 1. Questo cacciavite elettrico è un pratico strumento che offre due modalità di avviamento. È possibile premere il dispositivo verso il basso o semplicemente premere il pulsante di avviamento. Grazie alla sua funzionalità veloce e senza intoppi, può raggiungere fino a 360 rotazioni al minuto, garantendo una potenza costante per i tuoi lavori di fai da te. Non solo è facile da utilizzare, ma si ferma automaticamente dopo la disattivazione grazie al suo freno elettronico, riducendo l'usura sia dei bit che delle viti. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video.